Si è alzato in volo a metà mattina da Viale Vicenza Bassano l'elicottero verde dei carabinieri forestali impegnato in un'operazione di controllo del territorio coordinata dalla compagnia di Bassano del Grappa. La visione dal cielo è stata di supporto ai posti di blocco che si sono spostati nel territorio, numerosi veicoli fermati e le persone identificate.